Il primo contatto sul noto portale di acquisti online Subito.it, dove un 39enne aveva messo in vendita il suo iPhone dopo averne ricevuto uno nuovo in regalo. Da quel contatto l'acquirente fissa un appuntamento in un bar di Bassano del Grappa, i due si incontrano, lo scambio avviene, 960 euro in banconote da 20. Peccato che avessero tutte lo stesso numero di serie. Si trattava di soldi contraffatti, ma a tradire il truffatore è stato il suo nervosismo e così il 39enne insospettito è riuscito a fotografargli la targa. Da qui la denuncia a Vicenza. Per trovarlo è bastato poco. Dopo una perquisizione ad opera della polizia, al falsario è stato trovato un secondo telefono che conteneva delle prove inconfutabili. Il suo vizio su Subito.it era cominciato con la compravendita di automobili.